Ciao a tutti ragazzi e benvenuti di nuovo sul mio canale. Oggi è una grande festa per me, perché vado sulla barca a motore. Perché oggi si festeggia a San Basso. E quindi per fare la processione dobbiamo andare sulla barca a motore. E prima di andarci dobbiamo andare al porto. E quindi vi aspetto là quando arrivo sulla barca, va bene? Ciao! Eccoci qua ragazzi, adesso siamo arrivati a Termoli. Ora dobbiamo aspettare soltanto i colleghi Fabrizio e Alessandro di Telepolise. Dopo dobbiamo andare solo sul porto. A dopo. Bene ragazzi, ora siamo arrivati. Mentre le barche si stanno preparando al porto, noi stiamo andando in chiesa. Eccoci qua ragazzi. Adesso stiamo a fare la pattedrale di Telepolis. Per me è arrivati a metà. Weiss. Non perfetto, non perfetto, non perfetto, non perfetto. Non perfetto, non perfetto, non perfetto. Con perfetto, non perfetto. Vedete soltanto i sacrali. Sedante, si stanno preparando i Joy, Vedete soltanto i stanno preparando i copi. Grazie a tutti 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 E' tutto qui Quindi mi raccomando Continuate a seguirlo Continuate a mettere Mi piace come dice lui La sua canale E iscrivetevi al canale Ciao a tutti